Ciao amici di Napolità, ennesima sconfitta per il Napoli, una partita che ha due facce, prima di tutto da una parte c'è la formazione scelta Walter Mazzarri, questo 3-5-1-1 che continua non solo a farci perdere prima di iniziare, perché è una questione proprio di atteggiamento, ma poi si va praticamente a passare un messaggio ai nostri avversari che andiamo lì proprio per aspettarci di tutto, cioè metterci arroccati e mettere avanti i nostri giocatori che poi chi sono? Quaraschelia, Simeone, ma Quaraschelia secondo me Mazzarri ancora deve capire come va adoperato, durante la partita abbiamo visto dove è iniziato a incidere Quaraschelia, quando è nella sua comfort zone, non c'è niente da fare, nel primo tempo abbiamo praticamente regalato 48 minuti all'avversario, abbiamo preso un gol, raga un gol, una squadra che è andata lì per difendersi, cioè su un'azione, scusatemi che balbetto, su un'azione che praticamente il Milan fa sempre, da quando c'è Pioli c'è l'inserimento di Dio Hernandez nel mezzo spazio e noi non siamo riusciti ad andare a leggere quella giocata, è un qualcosa di incredibile, una squadra che nel primo tempo ha rifiutato di fare qualsiasi gioco che possa essere offensivo, si faceva sempre lo stesso passaggio, i tre difensori che si allargavano e l'esterno che non sapeva dove andare, anche sa che al contrario di quello che doveva fare col Verona si andava a inserire, non so perché, non riuscendo a fare mai sovrapposizioni, non mettendosi mai sulla linea dei tre quartisti perché la palla lì non ci arrivava mai. Il Milan ha fatto proprio il minimo indispensabile nel primo tempo, ha segnato e siamo andati nel secondo tempo, nell'intervallo. Che cosa succede? Niente, niente di strano. Raga, cacciamo il coraggio, giochiamo come sappiamo giocare, 4-3-3, si leva un difensore, entra Politano e si inizia a vedere un qualcosa, si iniziano a vedere i tiri in porta, Politano, Guaraschelia, Simeone che è andato vicinissimo al golo con una palla persa, ma è lì, è quello il Napoli che noi dobbiamo vedere in campo, non ce ne frega perché non è detto che andando tra virgolette, come si dice, non manco più idee, spregiudicati, noi dobbiamo rischiare il golo perché nel secondo tempo sì, ok, qualche ripartenza l'abbiamo presa, però noi quante ne abbiamo fatte? Basta, non possiamo andare a giocare così, non voglio parlare del risultato del pallo di Simic, di qualche rigore che c'era poi dopo lo vado a vedere magari con calma, ma tra poco alle 23.30 raga questa sera c'è la live, ci sono io e Silvia De Martino, parliamo ovviamente di tutta la partita, ma è quello il Napoli che dobbiamo avere, poi all'improvviso e cosa succede? Stiamo iniziando a prendere un po' di metri? Vedo la sostituzione, esce Simeone, entra Raspadori, allora io in quel momento realmente sono, ho iniziato ad uscire proprio pazzo perché non si può vedere invece di mettere Raspadori sotto punta, mettere 4-2-3-1, mettere la doppia punta, no, si toglie Simeone e si mette Raspadori, poi dopo entra Listrom, poi alla fine ingonge al posto di Wanges, allora comunque io vedo confusione totale, alla fine vai lì per fare una partita difensiva, però alla fine ti trovi a fare l'arrembaggio, ditemi voi quanto può essere conveniente questo atteggiamento, il Napoli così raga non va da nessuna parte, ma al di là che il quarto posto è lontanissimo, dobbiamo sperare nel quinto posto, dobbiamo sperare che gli altri perdano, cosa bruttissima perché più che andare a vedere il nostro tragitto dobbiamo vedere gli altri che fanno, sicuramente ora il mister parlerà del secondo tempo buono, positivo, dei calci di rigore, dei falli, io vi dico solo una cosa, se questo Napoli scende in campo sempre come è sceso nel primo tempo, raga noi non vinceremo pochissime partite, perché è una questione di atteggiamento, questi calciatori sono completamente svuotati, quello che hanno dentro le loro caratteristiche sono state praticamente disintegrate, Quaraschelle ha messo lì a fare la guerra, a cercare questo pallone a quando arriva, a prenderlo e cercare di inventarsi qualcosa da solo, avendo solo riferimento avanti come Simeone, lo perdiamo completamente, non solo che abbiamo un atteggiamento difensivo che poi difensivo non è perché avete visto, il Napoli non faceva prima pressione, però poi quando andava al centrocampo il pallone, il Milan lo portava al centrocampo, si andava a fare pressione, in quel momento le pressioni non andavano fatte bene e prendevano l'imbarcata, guardate il gol di Teo, allora non si fa bene nella fase difensiva e quando si fa la fase offensiva si fa perché o dobbiamo andare sotto di un gol oppure dobbiamo andare all'arma bianca, ragazzi è un cortocircuito enorme, a me non mi va di attaccare il mister, però sappiate questa è una reaction, quindi post partita io sto come un pazzo che abbiamo perso, il quarto posto si allontana, beh il problema è che non vedo proprio la luce, non vedo la luce perché non vedo una squadra difensiva che si difende, perché ripeto fin quando era con la Fiorentina, con l'Inter eravamo in Supercoppa, c'erano gli assenti a posto, ma ora qui non c'è nessun assente, ci manca solo Victor Rosimann che se non mi sbaglio ha anche perso la Coppa d'Africa, non voglio sbagliare perché sto qui con voi, mi sembra che ha perso 2 a 1 la Nigeria e quindi ci dispiace anche per questa cosa, vabbè, dobbiamo parlare del Napoli, ma io non vedo niente, non vedo una squadra che se si difende può arrivare con tranquillità al risultato e vedo una squadra che quando invece attacca, che è l'unica cosa che si deve fare con il mercato invernale, con i giocatori che sono arrivati, Gonge, Listrom, Listrom, un'altra prestazione ottima, entra il ragazzo e si fa vedere, il pallo arriva proprio da una giocata sua e allora raga dobbiamo cercare di cambiare subito rotta e non me ne voglia Mazzarri, io non parlo mai male degli allenatori, però Mazzarri siamo realmente in un buco nero, così non possiamo fare niente, non andiamo da nessuna parte, raga tra pochissimo inizia la live, mi raccomando non mancate, un bacio e un abbraccio da Sasawa, adiu, è sempre Forza Napoli, ciao!